Ciao a tutti amici collezionisti iscritti, parleremo del ritorno della serie che è iniziata dal 2021, ma è ancora in corso per l'eternità. Recensioni film L'ultima volta che ho recensito un film è quello di Miraculous e le storie di Ladybug che ci ha tornato il film, ma si è me a Teresa e Katos. Io volevo recensire il super film del Po-Patrol, ma non ho il tempo avuto di recensire. Oggi andiamo a recensire un film della Dreamus che non esce mai nel cinema, ma esce su Netflix. Orion in the dark, Orion il buio. Orion il buio, ovviamente. Orion il buio è un film che è uscito nei primi mesi di febbraio, che è della Dreamus Animation Studio, come tutti gli altri film della Dreamus, ma non è proprio quelli che trasmettono al cinema, ma quelli del nuovo film. Questo film è ambientato negli anni 90, a fine anni 90, fine 1995, mi sembra, che parla di un ragazzino che si chiama Orion. Orion, un ragazzino che aveva paura, in pratica di tutto, aveva paura dei cani, si, ha paura del punto di zanzare, anche a me ha paura del punto di zanzare, altrimenti le zanzare mi pongono sempre. Meglio che usi l'autan, l'anti zanzare, ok? Ha paura di, proprio di tutto, come faccio io? Ho paura della morte, come io. Beh, un bel film, Orion il buio, diciamo. Ha paura della morte, proprio come me, ha paura di chiudere il canale, io non voglio chiudere il canale. Io voglio che il canale rimanda per eternità, per sempre, ok? Che è il mio canale, se cerca noi tolgo gli altri video con il copyright, i previsioni, vabbè. Lasciamo perdere altre cose, parliamo di Orion e il buio. Poi, la madre e il papà, il papà è un po' brutto, vabbè. Decidono di, a Orion, di andare a letto, di alzare la porta, perché ha paura anche del buio. Che è del buio, ha molta, ma molta paura, ok? Ha molta paura del buio, d'accordo? Sì. Orion grida quando è piena notte del buio. Poi, viene il buio. Sì, il buio è specie quello della morte. È la morte il buio. Vabbè, non voglio specificare il buio. Il buio è... Lo fa cercare di non spaventare, di superare le paure a Orion, il bambino protagonista del film. E poi, lui segue me e va a vedere che c'è tutta bella notte, che carina la notte, bellissima. Bella, bella. Visti nella tutta la notte, beh. Fanno in giro di notte, fino alle 5 del mattino, prima che la luce alzi. Che in questo film, luce è l'antagonista del film. Attenzione, ma non è proprio antagonista del film. È solo che non ci sono antagonisti, ma li inventiamo che luce è l'antagonista del film. Quello con gli occhiali da sole. Va bene. Poi, incontrano anche altre cose di notte. Le cose notturne. Abbiamo questo robo giallo, che sembra una specie di tuba, che fa dei suoni misteriosi di notte, come quello del vento. Ok. Poi c'è una zanzara. Una zanzara che è insonnia, quello verde, che fa l'insonnia per svegliare la gente, come... Va bene. Poi c'è anche un topolino, che è quiete, che lei, non so se è un maschio o una femmina. Prima non parlava, parlava male, ma poi non voglio sapere. Perché recensioni, film, non ci devono essere gli spoiler. No, ci devono essere. E questo topo bianco che è, vabbè. Poi c'è il sonno, che assomiglia proprio a un Muppet o a Grimpshake, che è stato divertente negli universi Rankin, che poi porterò la recensione video prossimamente, quando concluderò le altri episodi. Va bene. Grimpshake. Grimpshake, vabbè, non pensiamo che sono i Grimpshake, è un Muppet, vabbè. Grimpshake, cosa vuoi? Ehi, qualcuno vuole un Grimpshake? Ehm, vattene via, Grimpshake, sto facendo una recensione di Oreo in buio. Ah, ok, va bene. Sommertnitch. Dicevo, è anche quella dei dolci sogni, che è una bella ragazza. Sì, quello che fa... Sì, quello dei suoni. Sì, sogni, sogni, sogni. Durante il film, Orion, assieme al buio, vivono tante avventure di notte, ma c'è anche un particolare. Ok, in verità è una storia raccontata da... Da Orion, da adulto, che è Orion adulto, mi sembra che somiglia a Blade 2. Ok, Orion adulto, Blade 2. Va bene. Sembra Blade 2. Che viene raccontato dalla sua storia, dalla sua figlia, del futuro. Quindi compare anche lei nel film, nel sogno, poiché... Eh, va bene. Abbiamo un film di Orion e il buio, dove protagonista Blade 2, da Bamboccione, che sì, è un film di Blade 2 e della Trimus, che non vanno al cinema, ma vanno su Netflix. Andate a vedere questo film, Orion e il buio, su Netflix. È carino, è divertente, ma allo stesso tempo è bello. Ma non voglio fare spoiler, capito? Bene. In conclusione, il voto di Orion e il buio, un 7,3 su 10. È carino, ma a volte è un po' pauroso, un po' incubo per il futuro, ma aiuto, eh. Già, 7,3 è un bel voto per... Lo so che tutti dicono 7, ma anche a me dicono 7, ma... Beh. Mi è piaciuta quella scena, vabbè. Basta. Non dire mi è piaciuta quella scena, ma... Questa avventura del sonno, della notte, non è così. Va bene. Questo è tutto per la recensione. Iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e commentate per la recensione di Orion e il buio, delle recensioni film. Il prossimo film che recensirò sarà Wish, vediamo. Ma sarà molto ritardato, capito? Quello di Wish. Vediamo se lo guarderò e riesce a guardare. E poi farò una recensione anche su Disney Wish in ritardo. Scusatevi, ma ormai è tolto al cinema, quindi... Vabbè. Vedremo se recensirò Wish. Quindi... Attenzione al buio. Ciao.